Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Ma il capolavoro di Meloni è stato anche quello di parlare di qualcuno senza nominarlo. A un certo punto lei ha parlato di questo qualcuno che si sarebbe autoinvitato. Ma chi sarà? Non è che voleva riferirsi a qualcuno in particolare? E' arrivato lì lanciando i piedi come fa al suo solito, quel bel Ken lasciato da Barbie Meloni. Sì, Andrea Gianbruno, proprio così, bello, tirato, a lucido, come mai si è presentato. Ed è andato lì per dire, lui praticamente si è presentato e ha detto... Una minchia, non ha detto niente, non è salito sul palco, non ha risposto ai giorni, niente. Ma che c'è andato a fare? Si è fatto solo vedere, sembrava... Sapete quella scena del padrino quando per non far parlare un testimone fanno apparire i padri in tribunale? Dan Bruno ha affermato la sua esistenza in vita ed è sparito. È sparito. Chissà che messaggio voleva mandare. Comunque, comunque la tensione c'è stata, lo stesso. Infatti quando hanno fatto la domanda a Dariana Meloni, ex cognata del Fusto, lei ha risposto stizzita. Sentiamola, sentiamola. Sentiamo, bello. Avete visto che c'è un dibattito, un corso, abbiate pazienza. Abbiate pazienza. Abbiate pazienza. Siete inopportuni. Siete inopportuni. Arianna è diventata il nostro nuovo idolo perché ha dato un'intervista in cui già il titolo è un sogno. Arianna Meloni difende il marito Lolo Brigida, orgogliosa di lui per aver fermato il treno. Non l'ho rimproverato. Ma stai parlando del marito o di un bambino di 7 anni? Che cazzo vuol dire non l'ho rimproverato? Cioè, stavolta non l'ha rimproverato. Bene, dai. Però poi ribadisce, ribadisce. Nessun rimprovero, sinceramente no. In questo caso no, in altri sì, in questo no. Tipo quando si mette le dito nel naso, non finisce i compiti prima di merenda, sì. Però in questo caso è stato bravo, ecco. Comunque sono giorni che si parla di patriarcato, ma la nostra domanda francamente è un'altra. Cosa deve essere vivere in casa Meloni? Ma per cazzo se non ti metti le pat...